potere pilato sono tornato e anteprimizzato evviva potere pilato ciao a tutti cari amici di anteprima e delle cose belle 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 in modo assurdo come me come state siete caldi siete frani Dario tu sei inqualificabile te lo dico inqualificabile però va bene tra l'altro sei tipo almeno 20 secondi indietro sulla live ciao a tutti non spammate ciao come state ciao papi belloge Dario maestro totale tomba Dario senti che mi chiede quando escono i fumetti proprio google 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 impariamo a usare google bentornato pelato amico grazie a te barbuto amico buonasera cranielli ciao come stai è il tuo primo messaggio in questa chat ne sono molto felice oggi un sacco di cose perché dobbiamo guardare anteprima ma ho anche dei pacchetto ho un pacchetto e un fumetto cioè un sacchetto come andate la canna di me è bello è stato molto bello poi mi ha telefonato mentre camminavo il tizio delle macchie d'umidità sono dovuto correre a casa giusto perché non rompere le balle a tutto il canale telegram quando potresti usare google effettivamente mister miches ciao non ce l'ho fatta me la sono spoilerata anteprima allora verrai banna bannate de max de max se parli se dici una singola cosa io ti banno per sempre dalla vita e secondo me conviene startene in speedrun panini disney pionicom del stamp poi pacco arriva gen facciamo mar di se manca stare in speedrun panini disney si si potrebbe fare effettivamente le stampe sono una pagina interessano sempre il barbuto apprezza il tuo saluto potere pelato sono mangiato ah che stanchezza bababia che stanchezza avete ragione facciamo subito così per voi intimi amici guarderemo disney che amiamo tutti guardarla dario il tuo compito oggi è guardare tutto quello che dice de max e se dice una parola in più eliminarlo dalla vita per sempre per sempre per sempre ho visto l'uscita di si xvixhot porca puttana cosa ho appena detto cosa ho appena fottutamente detto un secondo fa cioè cosa ho appena cosa stiamo dicendo sul canale e tutto il canale parla solo di quello mi raccomando bonelli davio tu sei fu il caldo ti fa male cioè è la live di anteprima di panini che cazzo c'entra bonelli raga è la live anteprima non si parla di quello che esce lo guardiamo insieme se no non ha un cazzo di senso se no sapete cosa faccio vado a letto dormo è bello io dormo tanto ho sonno ho sempre sonno penso di starmi trasformando in un letto letto io sono un materasso una legge uguale per tutti chi spoiler vado a bere sono davanti al pc dalle 14 buono come lumacorno ho recuperato il primo volume di starman per poi scoprire che non è l'omino stepanini ma è una roba vecchia di agostini no e non lo so allora right titan come si allora questa è la solita lezione per tutti come si fa a scoprire cosa contiene il vostro volume se è uguale a un'edizione nuova del volume si usa comics box per cui vai su google e scrivi starman comics box e lo scopri perché vai a vedere qual è la tua edizione e poi sicuramente capitolo per capitolo se tu vai sul capitolo 1 troverai anche la versione panini ti apri la versione panini e controlli che numeri contiene e guarda un po' se devo stare attento agli spoiler anche nell'anteprima e disonore sulle vostre mucche giusto giusto hai appena visto il trailer della serie no non l'ho visto non me frego un cazzo comics box come il talmud esatto qualsiasi cosa sia il talmud comics box dovrebbe pagarti dovrebbe effettivamente perché è la migliore allora per queste cose è comodissimo la gente non sa che esiste questo è il problema gx in generale cosa intendi in generale si capisce a cosa ti riferisci poi marvel dc manga di image tra l'altro tutto è in continuity penso che dipende dal caso a caso in generale se esce su una serie regolare spesso è in continuity non è spesso cosa spesso a zfu fu che cazzo dici se esce su una serie regolare è in continuity però anche lì dipende se è marvel tutto quello che esce è in continuity non esistono cose che non siano in continuity al massimo può non essere ambientata nell'universo principale però in generale se è una serie regolare marvel è in continuity la continuity è sopravvalutata ma il concetto è che tutto è in continuity l'unica cosa che non è in continuity sono quelle serie alternative perché in generale sono ambientate in un universo alternativo per cui le miniserie tipo che ne so marvel zombie è ovviamente alternativa e però gli elseworld è una roba dc non esistono gli elseworld in marvel non esiste neanche più in dc il logo elseworld una volta lo usavano e quello ti dava l'idea in panini c'è in panini buonanotte in marvel fondamentalmente tutte le storie sono gix è tutte allora ribadiamolo tutte le storie sono in continuity a meno che non siano storie alternative e lo capisci che sono storie alternative se tu hai una storia di una miniserie in cui inizia la miniserie e tutti i supereroi vengono mangiati dagli zombie e contemporaneamente c'è la serie regolare probabilmente non è in continuity allo stesso modo se tu leggi un fumetto in cui all'improvviso tutto l'universo marvel viene no tutta la terra viene privata dell'energia elettrica e avvengono storie in cui passano gli anni e contemporaneamente nei fumetti normali le cose continuano a scorrere normali non è in continuity perché è una roba alternativa però in generale tutte le serie regolari sono in continuity perché sì a meno che non siano quelle linee specifiche tipo gli ultimate che non esistono più erano ambientati nell'universo ultimate quindi superman non è comunista superman non è comunista no quello è un elseworld a suo tempo come va? bene? bene ma in realtà no non va bene c'è un po' di blu se legge un fumetto in cui due terre si scontra l'universo muore non è in continuity beh no effettivamente non è più in continuity non è in continuity non è più successo e comunque quella cosa ha portato conseguenze su tutto il resto della serie non è che le altre serie sono andate avanti normalmente se ti ricordi fratello Uldra hanno interrotto tutte le serie marvel in quel momento così comunque guardiamo questa bellissima cosa di Disney il tempo finisce già vabbè questo è addio Neil, George, Tim vogliamo parlare che Lupoi non ricorda i mangaka morti lo vogliamo dire Lupoi ricorda solo gli scrittori di fumetti americani morti grazie Timotiozzo ma se non mi mandi la notifica io non me ne accorgo però vedo che si è rinnovato il lavoramento a Zippanacleto un mese per un livello sette mesi totali evviva ogni tanto ritorno il lavoro sta diventando un nemico del potere pelato nel cesto di un Elseworld con Superman anziché cadere nel Kansas cade nell'Italia degli anni 1910 e diventa maciste bello bello oppure allora ce l'ho Superman cade nel cortile di Arcore intorno al 1900 non lo so quando Berlusconi ha comprato la villa e Kalel diventa Pier Silvio sarebbe bellissimo buonasera in mezzo nazionale hai spiato già qualcosa no no salita al potere beh ma la villa ce l'aveva da prima secondo me non l'ha pesata nel 94 non lo so ad Arcore non ho idea Batman a Napoli e la sua alta identità è tutto bello bello Batman contro la camorra mi piacerebbe molto Batman merda comunque boom probabilmente se l'è fatta costruire attorno a lui possibile Hulk contro la camorra no era più Batman su Comixbox fa paura conferma comunque il rapporto 1-1 di Starman vedi vedi quanto sono utile eh uno non se lo direbbe ma invece è utile seguire queste live seguite le live pelate che sono sempre utili dicevamo però leviamoci dalle palle Disney che non so dov'è Disney dove sei ristampe Disney che cose incredibili noi amiamo Disney evviva e ad agosto no a settembre questo esce il 31 agosto arriva il topolino 3484 con il topolibro la danza raccontata da topolino voi pensavate il manga sulla danza è un gran successo mai quanto la danza raccontata da topolino 9 euro se lo volete 9 euro che ordine faccio stavolta Disney ma non lo so che ordine intanto facciamo Disney che ce la leviamo dalle palle che così ne parliamo che lo sapete che la amo molto poi abbiamo topolino 3485 con il quaderno nozzo di topolino in due versioni colore quindi dovete comprare la versione normale la versione con blu la versione rossa e un'altra da tenere in scatolata poi arrivano gli scacchi di topolino però potevano farli colorati scusate sulla copertina sono più belli qua non sono così belli però sono carini dai effettivamente se uno ama la Disney ci sta e potrete averli al prezzo di 6,90 all'uscita con pedoni bianchi sull'87 pedoni neri sull'86 scusa come ma no ma che merda no aspetta devi comprartene 4 dello stesso ma sono stronzi no aspetta hanno sbagliato non hanno aggiornato il numero sono cretini vabbè brava sempre sempre migliori no è che hanno sbagliato allora se guardate l'uscita è diversa e cambia il mese per mese quindi allora considerando che l'85 esce il 7 settembre quindi il 14 settembre eventuale è effettivamente questo qua sull'87 ma questo è l'88 questo è l'89 questo è il 90 solo che hanno fatto copia e incolla grandi perché vedete che non credo che continui a uscire lo stesso numero a un distanza di una settimana che coglionazzi vabbè sempre migliori che poi uno si incazza e poi ti no non è così mammi non fare cazzo di spoiler porca puttana oh ma siete come il muro ogni santa live e la cosa divertente è che non è la gente nuova che arriva e dice cose che non si sono ancora viste no sono i classici bravi sempre migliori ma invece è quello che hai appena fatto non lo dire non dite le cose non voglio che diciate le cose prima che ci arriviamo su così è più divertente se no mi rompo le palle a fare queste cose comunque topo libro il manuale degli scacchi yeee evviva il topo libro ma non è che sono già alterato mister Joe io chiedo una cosa alla chat non mi non mi eliminare il messaggio di mami dai chiedo una cosa alla chat quando facciamo la live di anteprima di non dire cose su anteprima e non ce la fanno eppure il manuale vabbè è un po' inutile vabbè il manuale ci può stare alla fine se è un manuale pensato per i bambini ci sta secondo me e immagino lo sia che ne pensi di Totti e Ilari e guarda io sono fondamentale sono molto colpito da questa notizia anche un po' devastato spero vivamente che non si lascino anche Fedez e la Ferragnez i Ferragni i Ferragnez perché a quel punto il mio cuore andrebbe in pezzi e lascerei probabilmente Twitch e il pubblico in generale e andrei a vivere in montagna da solo ritirato sì sì mister Joe anch'io sono molto dispiaciuto per i figli perché poverini sono ricchi e hanno i genitori divorziati e quindi avranno ancora più soldi da entrambi io sono figlio di genitori divorziati e vi assicuro che con i genitori divorziati si vive molto meglio comunque sono disperato mi sono strappato tutti i capelli vero è così come sei diventato pelato avevo i capelli fino a quando non si sono lasciati Totti e Ilari già non se sei povero beh oddio anche se sei povero perché hai un genitore in meno che rompe i coglioni io sono nuovo già su Twitch che sono nelle tue live di anteprima quindi ho saputo ora scusa di nuovo ma l'avevo appena detto xVicShot cioè nel senso sono pelato per colpa di Totti e Ilari sì 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 è tutta colpa loro maledetti Totti e Ilari perché vi siete lasciati io credevo nel vostro amore era la mia unica ragione di vi non è vero però fa niente ma va bene dai non ti è dispiaciuto per niente per i tuoi allora quando hai sei bambino ti dispiace non è che ti dispiace per i tuoi ti dispiace soprattutto una volta quando non era così comune perché ti senti che qualcosa cambia senza motivo ma poi alla fine col senno di poi non me ne fregava un cazzo cioè una volta cresciuto sti grandissimi cazzi che si fossero lasciati cioè tra l'altro mio padre era un gran rompicoglioni non mi ci sono abituato mi sono reso conto che non cambiava niente a te non cambia un cazzo se i tuoi genitori si sono separati o no a parte che hai più regali nel senso che comunque loro ti vogliono bene lo stesso non è che ti odiano e poi tuo padre ti odia perché stronzo lui non è perché si lasciano probabilmente ti odiava anche prima quindi meglio se non ce l'hai in casa e sono cazzi loro che brutta cosa vivere con i tuoi in effetti oggi ho separati in casa deve essere orribile litigano o non litigano tutto il tempo i miei rompevano mio padre rompeva il cazzo in un certo ma non per quello era più bello era bello quando la segretaria telefonava e faceva le telefonate in un mute perché boh non parlano proprio top grande bellissimo deve esserci un ambientino fantastico in casa ti invidio molto comunque andiamo avanti nonna papera i racconti attorno al fuoco sono l'unico che sta pensando a nonna papera che prende uno dei nipotini e lo mette sul fuoco e poi se lo mangiano tanto vabbè reginella le altre storie di rodolfo cimino non so non conosco è una vecchia fiamma di topolini paperino non conosco questo volume della cronaca il ciclo delle storie di reginella scritta dal grande rodolfo cimino con la riproposta di reginella e la minaccia terrestre reginella e la terribile e il terribile vampirione incredibili contenuti inediti bello secondo me è buono l'irreprensibile rodolfo cimino non sapevo facesse anche fumetti buono e il nipotino cotto al fuoco secondo me sì pensa quanto peggiora il tutto quando non parlano manco no oddio se non parlano manco con te è meglio secondo me i genitori in generale però poi abbiamo la ballata di john day rocker duck rocker duck di cavazzano io papirinic oh non è bello quanto io pippo però vabbè anche io papirinic ci può stare poi abbiamo le follie di eta beta eta beta rock duck balla evidentemente è la ballata dei fratelli la ballata in realtà non è un ballo è una è come se fosse una un racconto in musica una ballata mi ricordo la ballata dei fratelli dal ton in rocky duke roba di un altro roba di un altro tempo io pippo sono gold io pippo solo gold sì e poi abbiamo arrivano i nuovi topo dollari la seconda serie disegni inediti di luca usai e più a grande richiesta è possibile ordinare il raccoglitore delle banconote grazie a famichele fabrizio 96 per aver rinnovato la sub per otto mesi grande è stata doppia anche bandana wii e bandana wii 21 mesi grandissimo bandana wii uno dei top del canale vvb vvvvvb una rhapsodia bohemiano rhapsody sera vvvv c'è banconota basettoni ma non ho capito ma escono così da sole questa 6 4,90 insieme ad altre cose tipo disney compilation al manacco di topolino classici disney ok sono varie in giro e c'è il raccoglitore per le per il topo dollari sia per la prima che per la seconda serie quindi se avete solo la seconda mi attaccate grazie anche a l'orena inizio che sei abbonata con prime grazie grazie se vuoi unirete al gruppo sub punto esclamativo sub che use vanno per comprare io pippo esatto poi abbiamo guai fantastici e come evitarli con pippo e topolino perduti e che stanno per essere investiti da una nave evidentemente paper fantasy 110 con una storia inedita devo dire che paper fantasy è fantasy no è l'ultimo numero volevo iniziarlo ma è l'ultimo numero e quindi niente non si fa ma quindi hanno fatto 110 numeri di paper fantasy sti cazzi non pensavo e poi noi amici io topolino o noi amici non si capisce poi c'è paperino paperinic zio paperone i grandi classici disney big donald quest cos'è donald quest il gioco fantasy con paperino è un divertente fascicolo con alcune storie fan si deve compresire il gioco da tavolo in omaggio è 950 in effetti questo po' il regalo donald quest il gioco da tavola io di proper fantasy avevo preso i primi 2-3 numeri poi non ho capito ho capito che migliorano io per i nuovi utenti sabati se volete il punto iscrivativo sab in chat regalate un leak in privato bravo dario dimostra comunque abbiamo l'hype train era un po' che non lo vedavamo se volete donald quest sarebbe l'equivalente di thanos quest no il club dei supereroi numero 8 con super pippo che combatte con un volatile con due braccia il dottor avventure spaziali paperopoli the best of tutti al lavoro le agende di topolino basta bello mi piace molto Disney uscite Disney visto che lo avete richiesto ci guardiamo anche panini comics così iniziamo subito a lamentarci di panini oh che bello ma arriva una nuova fantastica serie inedita di Leo Ortolani questa volta 32 pagine 3,50 euro ma quanto è conveniente piuttosto che comprarla mi inculo un mufflone avete la possibilità di chiedere le uscite di telegram in chat telegram direttamente al nostro Umberto che sta a fare rispondere di cercatelo su google eh sì ma più che altro perché quando si trova su google scrivendo letteralmente il nome e amazon di fianco forse potete farlo voi invece di farlo fare a me tipo mufflone goloso seriamente basta con sta merda cioè volete pubblicare i volumi delle robe gli ortolani e non gli spillatini a 3,50 euro cioè con 4,40 euro mi compro un fumetto Bonelli completo di 96 pagine che cazzo di senso ha che paghi 3,50 32 pagine scarse ho capito Dario ma non dovete comprarle perché il concetto è una presa per il culo e se voi continuate a comprarle loro continuano a farle è il motivo per cui io non le compro io infatti quella che ha fatto l'altra volta non l'ho comprata si attaccano al cazzo e tutti dovrebbero non comprarla perché è un modo di presentare questo genere di storia che non ha un cazzo di senso e poi le rifanno in volume ma certo che le rifanno in volume a un certo punto figurati e panini però sta roba qua non ha proprio senso è una roba orripilante sì ma sono comunque 21 euro facendo il conto io 21 euro per un per 3 per 6 spillatini di 32 pagine non glieli do o se volete darglieli dateglieli contenti voi io evito non hanno già fatto aspetta e piangi per DC e Marvel ma che aspetti e piangi già il mese scorso l'hanno fatto Robert David ma sono 6 uscite sì aspetta la raccolta eh sì che sono 6 uscite ma anche se la paghi un po' di più la raccolta ma quantomeno è un volume unico questi qui sono sti cazzo di spillatoni formato comic book con la carta dura le copertine dure non sono neanche particolarmente belli per cui io evito proprio alla stragrande non me ne frega niente voglio bene a ortolani ma vorrei che le sue robe fossero pubblicate in un modo decente oppure le fai economiche davvero a questo punto mi fai 3 numeri da 64 pagine a 4 euro in formato bonelli voglio dire se i bonelliani costano 4,40 euro materiale prodotto in Italia di 96 pagine perché mi devi far pagare 3,50 32 pagine che cazzo di senso ha Robert Devil è uno spoiler se mi dici così mi metti l'ansia enorme cresta sui prezzi comunque l'ombra di Topin ah Topin vabbè e Ratman Gigante arriva al nuovo numero anche questo 3,90 è abbastanza ridicolo però vabbè è materiale già stampato per carità però almeno è il doppio delle pagine oltre a essere più grande di formato questo qua è proprio inqualificabile poi abbiamo Call of Duty Vanguard 3 che contiene anche una cooling card esclusiva del gioco wow il nuovo numero delle Turtles che continua a uscire imbrassurati da 10,90 96 pagine io vi suggererei di recuperare questi se li trovate poi abbiamo Silver Coin 1 la moneta d'argento di Michael Walsh Kelly Thompson Jeff Lemire Chip Zdarsky e altri ah questi qua ne avevano parlato mi sa forse al tempo della Allegra Lucca Napoli molto conveniente devo dire 128 pagine 18 euro proprio che bello quasi quasi mi viene voglia di vedere se esiste una versione americana migliore ma si Matt sono tutti così cioè 18 euro è il minimo dei cartonati è così da un mese abbiamo già detto la volta scorsa non torniamo a ridirlo perché saranno tutti così da lì in poi purtroppo Amazon è brossolato quello americano questa 13 euro beh ci sarebbe da pensarci comunque vabbè è interessante vediamo un po' poi abbiamo Scorched chi morirà per primo Panini Direct terzo spin off di Spawn che io vorrei sapere chi è che se li compra questi spin off di Spawn a 22 euro per 168 pagine però ok ma allora idea farli brossurati tipo che almeno li facevi pagare 18 invece di 22 vabbè comunque bello lo compro sicuramente è fichissimo non so neanche cos'è di Tony McFarlane St. Louis Stephen Segovia e Paul Sikhera sicuramente mio al 100% poi abbiamo Shadecraft la plasma ombra il cartone più puro secondo me la morte del fumetto americano in Italia si avvicina sempre di più con questi prezzi ve lo dico cioè o trovano un modo di proporre le cose anche a formati un po' più interessanti cioè non è che puoi continuare ad aumentare i prezzi e pensare che la gente se li compra perché psicologicamente 18 sono tanti comunque qui abbiamo tipo seriamente vi viene voglia di comprare Shadecraft la plasma ombre Azwufu non lo so probabilmente bisognerebbe fare un passo verso volumi con più pagine in modo che poi abbassare un po' i prezzi perché boh poi per carità quando la miniserie è completa ci sta se non è una miniserie completa eh sì cioè questa roba qua ma chi la compra cioè non so nemmeno cosa sia lo showrunner di Lucifer e il disegnatore Le Garbet raccontano una storia di una giovane donna che si ritroverà costretta ad affrontare le proprie paure più recondite ho capito ma io 18 euro sull'unghia senza averlo letto non li spendo come fai cioè ti dice o è l'autore incredibilmente conosciuto e allora dici vabbè ma questo qua perché è lo showrunner di Lucifer io mi spendo 18 euro sull'unghia così ma non lo faccio beh poi vedano loro però io non lo so buh ecco ad esempio Brzo che che è di Chianuris Mattkind e Rongarni e continui a prenderlo perché perché è di Chianuris Mattkind e Rongarni quindi c'ha un certo grido però il resto delle robe tra l'altro mi sa che non l'ho mai letto il primo volume sapete non mi ricordavo nemmeno di averlo comprato l'ho comprato non so neanche dove sia poi abbiamo Magic volume 2 buh vabbè le storie di Magic ecco è una di quelle robe che magari lo buttano in libreria qualcuno qualche fan di Magic passa di lì e lo compra però le robe senza senza una sponsorizzazione senza una motivazione buh Beppo ti dico la verità io non ho voglia di leggere in inglese nella maggior parte dei casi perché è comunque una rottura di palle in più cioè per me leggere è un piacere leggere fumetti se devo anche star lì a pensare che le devo leggere in inglese sempre funziona e non funziona se è una roba ogni tanto non mi crea un problema se dovessi pensare di leggere tutto in inglese non c'ho voglia perché vado a letto la sera e non ho voglia di dover anche fare la traduzione in testa anche perché sì con certi volumi conviene con certi se li trovi su Amazon in offerta con gli Omnibus se li compri in preordine può anche convenire per la maggior parte della roba effettivamente leggere in inglese è di imbattere una parola che non è tipo cioè non è proprio insomma bru anche perché non credete che non aumentino poi anche quelli americani pian pianino perché io ho quasi tutte le cose che mi interessano le metto in conchipa in realtà però insomma non è che funziona così bene comunque vabbè sono aumentati anche qua per cui vabbè Asterix escono due volumi come tutti i mesi poi c'è All Robos L'Espire del Serpente Libro del Mondo di Low Brand di Chris Mersen Daniel Moore anche questo chi cazzo spende 400 euro vabbè vabbè alla fine è una roba di giochi di ruolo in teoria per cui la gente che fa giochi di ruolo se le compra queste cose magari è anche figo però 50 euro è un po' tantino ma soprattutto esce la guida definitiva ai dolci degli animi questo lo voglio dolci aspetta oddio lo voglio ok questo lo compro questo lo voglio più di 60 ricette di dolcetti e dessert ispirati agli anime lo voglio subito live cucina live cucina con gli anime peccato che la mia cucina fa cagare però a parte quello ci penserei a questo vabbè però guarda che è formato 20x25 che è piccolo in realtà e di quali degli anime in generale vabbè ma sono robe giapponesi immagino no cazzo ma è uscito il libro di Sanji no non l'avevo preso aspetta sai che non mi ricordo cioè mi è un po' passato sotto gli occhi poi mi sono dimenticato di prenderlo però volevo prenderlo in realtà guarda volendo cioè usato a 15 ore 49 contro 18,90 su Amazon lo compro usato come ottime condizioni quello americano sì perché compri su Amazon devi prendere il preordine vedi che prendi 3 a 40 dollari è uscito per il comico sì 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 no ma mi ricordavo che era uscito guarda intanto lo metto nella lista regali poi così magari mi ricordo di prenderlo va bene perché quello faceva ridere e mi divertiva l'idea di prenderlo anche se sovrebbe buttare i soldi eh però butto al soldi in tanti modi però giusto le offerte Amazon vengono e basta sì va bene poi esce Star Wars 19 solita roba Alta Repubblica 19 17 solita roba figo sto tizio non so chi sia però è figo oh che carino Darth Vader and fans no è l'omnibus di questo che bello se prendetevi questo qua mi piacerebbe prenderlo perché sulle storie sceme con Darth Vader e i figli è bellissimo però questa è la versione completa con tutti i numeri 320 pagine 35 euro vabbè 20 per 20 perché è quadrato carino potrebbe essere un'idea caruccio ma lo sai che è uscito davvero Mr. Meekers accidenti devo andare subito a comprarli e a proposito lo so è solo che non ho ancora finito di leggere il 2 e quando lo finisco li ricompro ma tanto li ho già letti non è che ho fretta a proposito di Star Wars posso chiederti se come primo fumetto in assoluto di Star Wars l'Omnus Darth Vader di Charsour possa andare bene sì sono storie di Star Wars alla fine i personaggi quelli sono in Italia vende così bene Star Wars non ne ho idea beh ma zio sono storie nate così il formato è quadrato sono storie per ragazzini cioè nasce come libro per bambini molto divertente per cui è simpatico come idea non compratelo come se fosse un cult ecco però era divertente le ho visti spesso negli anni è vero non è rinnovato la sub ma potrei farlo prima quando c'era l'hyp train eh e vabbè Star Wars i romanzi Mandalorian la stagione 2 poi c'è chi è questo un anziano bello Star Wars è cercato cacciatore d'Italia con dentro un anziano è Griff Carga grazie per la sub in caboy benvenuto ripipe train eh vabbè il romanzo della serie tv top acquisto no ma no 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 questo è tipo ah no è il romanzo della serie tv è vero però è una junior novel bellissimo comunque mi raccomando comprate questo che siamo un personaggio importantissimo che non mi ricordo masce orso 3 e 4 spide e i suoi fantastici amici bello grazie all'849 per la sub 4 mesi evviva non sabatevi troppo che poi mi tocca comprare qualcosa Topolino Junior 12 Lego Avengers 14 vabbè c'è un sacco di robe così basta va bene va bene ora direi di fare una breve pausa così guardiamo gli allegri acquisti della settimana ma è tutto buio non è meno buio e abbonatevi mi dice no abbonatevi fino a 9 poi basta abbonatevi pure che schifo non mi fa ciao Frank Jagger allora intanto è arrivato l'allegro sacchetto di fumettini ho fatto un salto in edicola e in fumetteria questa mattina e ho preso quello che tutti aspettavate il numero bis di Dylan Dog evviva la strage silenziosa strage silenziosa in cui sapete che me ne sono accorto adesso che è una donna perché ha le tette eh già non vuol dire ovviamente sì albo bis e 430 bis l'avevano scritto così anche l'anno scorso ma oddio almeno graficamente è decisamente meglio del numero scorso il numero scorso era terribile questo quantomeno si fa guardare poi la storia non l'ho ancora letta però visivamente non mi dispiace è casa languida che non è male poi può piacere o meno per carità però quantomeno i disegni non sono terrificanti non sembrano degli sketch no si chiama così perché è il secondo numero di questo mese eh anche a me sembrava fosse tipo però dovrei andare a vedere ma non lo voglio vabbè visivamente ci sta poi vediamo come sono i testi sono di Rita Porretto e Silvia Mericone vediamo un po' non lo so però almeno non mi dispiace e non è stato scritto 35 anni fa perché c'è il tipo nero la tipo poliziotta ma non c'è c'è solo lui comunque quantomeno si fa guardare non ho letto la storia sarà scritta negli ultimi due anni almeno chi lo sa chi lo sa probabilmente no l'ultima era stata scritta disegna 10 anni fa per cui vedete un po' voi però dai graficamente non mi dispiace adesso è un po' particolare è molto pulito non è pulito è molto contrastante e con tanti spazi neri e bianchi non mi dispiace il suo stile di disegno anche a livello proprio di character design è un Dylan che sorveggia il niente ah vedi che c'è lei oh carino bello poi cos'altro abbiamo preso beh il fumetto che tutti aspettavate di più wow marvel fortnite zero due yuppididù che bello non la dovete spendere 5 euro per 32 pagine io si mi sento tutto seminato christos gauge è quello che urli dopo averlo letto christos gauge anche mustard ovviamente l'ho preso soltanto per poter scaricare il mio oggetto nel gioco dopo lo faccio infatti devo stare attento a non farvi vedere il codice vediamo se c'è il codice ma non ve lo faccio vedere guardate che belle queste cover variant guardate che bella questa cover variant eh eh live su fornet con manuel guardate ci sono anche conosciamo meglio spider man si compra perché non c'è l'omnibus che strano compra il numero uno soprattutto in prima posizione mi raccomando comprate storie degli anni sessanta bambini che avete comprato questo fumetto sicuramente vi piaceranno un sacco ma un sacco 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 vai correte ad andarlo a comprare che sicuramente vi piacerà cioè non questi che sono comunque moderni no 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 questo qui o anche l'ultima caccia di craven adesso capolavoro è l'ultima caccia di craven però non è certo il primo fumetto di spider man che farei leggere a uno che legge fortnite marvel e non ha mai letto niente questo carino anche questo non è molto adatto però quantomeno è bello questo sì questo sì ci sta spider verse sì oddio anche questo è un po' sì 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 anche storia della vita carino ma non lo apprezzerebbe un ragazzino ecco però guardate che bello lo scontro fra le personaggi che di cui non so assolutamente nulla e che non vengono nemmeno presentati guardate quanto è sempre affascinante io credo che l'autore il disegnatore odi profondamente miss marvel capitano marvel la fa sempre o scena che cazzo di poverina cioè cosa le ha fatto di male ovviamente c'è sempre l'uomo ragno strano con le sue proporzioni da bambino delle elementari muscoloso che non viene più messo a fuoco e non è che non le sa fare le ragazze perché questa qua è normale è proprio capitano marvel che la segna in quel modo non si sa perché tempesta non è così orribile misteri della vita comunque grande Tony Stark ha fatto anche cose buone grazie viva Matteo Renzi benvenuto benvenuto ciao ma andiamo a qualcosa di veramente bello il joker numero 9 non sapevo nemmeno che uscisse infatti l'ho preso adesso non l'ho preso mercoledì perché non l'avevo visto un nuovo volume del joker con punchline qui potete vedere il joker mentre è in macchina con l'amica Bane donna e che cazzo è questo una donna rossa e poi ovviamente ci sono le fantastiche storie di punchline una delle serie più belle e seminali degli ultimi anni vedete ad esempio ah ve la ricordate quella cosa no non possiamo far vestire da Darketton a Death perché i giovani non sanno scusatemi com'è che era che no il look è incomprensibile vero? incomprensibile giusto? ok era necessario completamente stravolgere il personaggio perché se fai un Dark oggi la gente non capisce cos'è giusto? vai Guyman sei il mio eroe non è perché Netflix ha detto no ci vuole almeno un personaggio di colore uno gay poi trans poi dei neri che non muoiono per forza Ultimate Matt è la solita polemica sul fatto che ciao dimmi le sigla sei della sub sul fatto che mi hanno completamente cambiato visivamente il personaggio di Death nella serie tv di Sandman è una cosa disgustosa a mio parere perché porca troia se c'è un personaggio che è intimamente legato al suo look è quello è come se tu mi fai Superman e me lo fai con il costume giallo senza mantello e con i capelli rasta e tu dici ma chizzo non è Superman no no è Superman vola c'ha i raggi ottici e il soffio glaciale e ho capito ma porca puttana se c'ha un look stabilito un personaggio che c'ha un look stabilito porca troia è Death e tu me lo cambi totalmente perché? perché è Netflix ci serve il personaggio di colore fra i protagonisti perché se no sai apriti cielo e non è un illazione è davvero così non è nato in Kansas quel Superman lì è quello il fatto cioè non è il personaggio tu dici vabbè ma chi allora mi cambi Perry White chi se ne frega nel film di Superman hanno cambiato Perry White l'hanno fatto di colore facevo un po' ridere perché è Perry White però anche sti cazzi non è un personaggio così fondamentale e così ma non è soltanto che è Dark vecchio che guarda è Dark con la pelle bianca col tatuaggio cioè cazzo costantin deve essere anche inglese in teoria per cui è più allo stesso punto devi farlo indiano costantin indiano ciao Fabio Cristofano ciao pelato come stai? scusa se sono sparito per un po' non ho idea di chi tu sia ma bentornato tra l'altro non hai mai messo il follow perché se no non ci sarebbe la notifica ma poi i riferimenti Dark sono anche musicali per detta sì vabbè quelli musicali considera che effettivamente lì ci sta perché se devi ambientarlo oggi la musica la cambi però non è che non esistano robe che assomigliano ai Dark oggi qualunque ragazzino depresso si veste di nero e quindi è comprensibile ma arriviamo alla cosa migliore della settimana ovvero l'ultimo definitivo numero di Jojoleon27 fra l'altro ho qua i pochi numeri che non ho letto di Jojoleon questi si sono un po' indietro ma adesso che è uscito l'ultimo non lo finirò mai probabilmente sì fratello Uldra mi spiace ma sei depresso consiglierei di rivolgerti a uno specialista che non sono io e ti dirà se sei davvero depresso e sai dirmi qualcosa di The End di A. Nielsen o nel caso qualcuno in chat no beh poi magari non è il momento ideale cioè nel senso fosse un altro momento te lo cerco anche ma abbiamo un po' di cose da fare per cui non mi dice niente quindi no ho sentito che vorrebbero fare una serie tv hanno ucciso un uomo bagno no non è della canzone sarebbe la serie sugli 883 e hanno intenzione di intitolarla così no non l'ho finita siamo in pausa faffo siccome ho delle cose da aprire ho fatto Disney e Panini Comics fumetti e poi torniamo ad anteprima ma se Giorgio gli ho merita è carino se ti è piaciuto il resto di Giorgio sì se non hai letto il resto di Giorgio io reggerei prima il resto e poi vedrai se mi interessa questo comunque vabbè il fumetto è questo è il solito classico fumetto l'ultimo numero magari non ci facciamo spoileroni evitiamo alla fine vabbè è sempre Giorgio è sempre Iroiko Araki quindi i disegni più o meno avete capito come sono immagino a questo punto però non ci facciamo spoiler ma contiene anche il regalo le 10 postcard in questa carina carino però il confezioncino così non ti vanno tutte in giro così invece di mettere le card nel posto in cui tieni tutte queste stronzate ci metti direttamente il contenitore oh ma che bello vediamo vediamo le card oh queste sono anche spedibili se volete guardate hanno fatto proprio il coso con la spedizione oh oh la famiglia figa chicata vabbè sono carine comunque rimane il discorso che cazzo ci faccio però sono gratis per questo una donna con delle cose sul vestito wow oh dei pennelli ah pennelli assomiglia è lo stesso vestito però è diversa la posizione strana questa cosa bello poten e per ultimo questa yuhu vabbè dai sono carine alla fine ho visto di peggio nella mia vita vabbè bello ora probabilmente non le toglierò mai più da qua e oggi è arrivato l'omnus degli avengers susscito questa settimana grande quello della guerra nella galassia operazione tempesta nella galassia picco ma è il momento più atteso il momento dello sponsor di oggi ed ecco a voi l'attesissimissimo le divine commediche di astromica evviva no vpn magari magari navigate con astromica sicuri e per vedere anche netflix nei paesi dove non siete dove è simone simone ci sei no non c'è non lo vedo guardate che bello il logo di astrom ora guarderemo ora leggeremo in live tutto il fumetto così allora possiamo vedere che la qualità di stampa è molto buona la grammatura della carta non è male e sarò felice di leggere le divine commediche e capire se mi piace o no perché non è il mio genere di fumetto in generale però vedremo probabilmente è divertente ma è carino da vedere così nel prossimo episodio abbiamo anche dei colori wow bello ci sono anche gli studi del personaggio sono gli appendici coi personaggi breve storia figo figo ma scusa come ci vediamo nel prossimo volume hanno detto che sono volumi singoli devo chiedere a Simone però Simone che mi manda i volumi rovinati ne vogliamo parlare grazie Simone grazie grazie Simone segnate a Simone Simone manda gli influencer i volumi rovinati prezzo 9,90 no 10,95 mi sono sbagliato Simone manda gli influencer i volumi rovinati visto che non poteva essere venduto l'ha mandato a testo maledetto Simone si nota anche in convertito adesso sentirò tutti gli altri influencer che hanno ricevuto se il mio è l'unico rovinato mi incazzo e poi abbiamo anche animalati evviva questo lo attendevo molto di più perché è il fumetto di doghini grande doghini anche qua abbiamo sempre il logo di astronomica ma di un colore diverso perché qua è nei colori di animalati quindi invece è più allegro e animalati è una storia bizzarra e inquietante con dei disegni molto molto particolari e sono super curioso di leggerla perché fa molta inquietudine animali umani umani animali non so cos'è però è molto fico doghini è un signor autore e secondo me questo qua potrebbe essere davvero davvero interessante anche con uno stile grafico molto particolare ho fatto appena vedere l'ultima tavola grande fico anche questo 10.95 lo trovate su Amazon è il momento dei link Amazon non trovo il mouse ci sono ancora su Amazon soprattutto speriamo di sì Simone me li manda tipo dopo due mesi che sono usciti animalati non è venuto doghini così è venuto fuori allora questo è animalati e se invece uno volesse provare Lady Vine e Comedica ce l'abbiamo qua yuppidoo taxi fattora magari comunque sono bellini dai dei bei volumi aspetta potevano fare allineati eeeh fico va bene va bene tac allora torniamo ad anteprima con gioia sì mi sono molto offeso sì sì infatti gliel'ho scritto ma si è offeso perché gliel'ho detto tra l'altro non parliamo di Stefano Roghi perché non voglio dargli visualizzazioni diciamo no alle visualizzazioni per Stefano Roghi che si è messo vuole essere mio nemico e io mi adeguo mi adeguo mi adeguo io direi di iniziare con le ristampe guarda ci sono delle belle ristampe agosto settembre intanto torna il secondo volume di Lucifer in versione brossurata che un sacco di gente gli mancava e c'è poi arriva Avengers l'ultima schiera che è il primo volume degli Avengers di Aaron credo sì ora al prezzo al prezzo fantastico di 19 euro in questa nuova versione la ristampa dell'immortale Hulk che mi sembra di leggere 16 euro ancora stranamente però non lo so potrei vedere male ho venuto gli spillati in tempo il secondo volume di Daredevil questi sono nuovamente disponibili in teoria Marvel Jansai The Secret Edition e Rogue One A Star Wars Story poi c'è Atelier of WeChat Banana Fish Citrus 9 Hunter Hunter 19 29 Attacco dei Giganti Colossal 1 e Killer Inside 4 direi di no Jason però se uno c'ha voglia le ristampe vere e proprie invece fanno la prima ristampa di Sandman presenta Death che è quello da prendere poi c'è il Masterworks di Thor 2 il Masterworks di Thor 5 Assassination Classroom 1 3 4 6 Blue Flag 2 in Hide Out no Hide Bout non so cosa sia seconda ristampa Ichiri Killer 4 ancora aspetto il 2 One Punch Man 24 Attacco dei Giganti Lost Girl Attacco dei Giganti 5 21 Attacco dei Giganti 22 23 24 25 Nausicaa 4 Nausicaa 6 e Sido 7 Devo guardare devo capire dove ho i numeri di Sido per vedere quali numeri mi servono perché se iniziano ad arrivare quelli che mi servono vorrei comprarli l'Omnibus di Miller eh eh what eh hai guardato la data eh Flaz perché guarda che sono abbastanza precisi con le ristampe eh se le annunciano in genere arrivano battela a ricordare magari comunque preferite manga panini o marvel il primo che lo dice lo facciamo così manga ha vinto in manga eh allora The Elusive Samurai 1 dall'autore di Assassination Classroom disponibile anche con edizione variant con ventaglio e cartolina wow che bello costa 14,90 la versione variant con ventaglio e cartolina mi sa che ventaglio e cartolina glieli lascio però al primo numero magari si prova di Yusei Matsui per un guerriero l'onore più grande di aprire battaglia e poi l'abilità speciale di Ojo Toshiyuki l'erede dello shogunato di Kamakura e restare vivo oltre che percorrere il cammino dell'eroe in un mondo tutto suo ma non è che ho già letto qualcosa di sta cosa 10 euro per... no non è solo il ventaglio c'è anche la cartolina e l'edizione variant Calvino wow mica cazzi eh poi magari è un ventaglio gigante è tipo il ventaglio della tipa di Naruto la spalla così sicuramente così è da collezione però non devi aprirlo perché se lo apri perde il valore e a proposito se lo apri perde il valore qui c'è il momento più bello della settimana che bello geniale fantastico magnifico la divinità fatta a il genio del marketing io adoro questa cosa per me fa fare un balzo a panini di 10 metri in alto perché il blind pack è oh raga ma io sono io dico che hanno fatto benissimo questa qua è geniale questa qua sarà la rappresentazione del fatto che se sei un coglione ci cadi se sei un coglione ci cadi ed è inevitabile e hanno fatto bene a farlo almeno tu d'orin poi quando quando andrai in fumetteria e vedrai un tizio che esce con 8 numeri di no beh se non sei scemo lì apri direttamente in fumetteria lo compri lo apri lo compri lo apri lo compri lo apri finché non trovi quello che vuoi ma è di un'idiozia talmente che è fantastico ma hanno fatto benissimo tocca portare la bilancia in fumetteria hanno fatto benissimo in pratica per chi non lo sapesse col primo numero ci sarà praticamente sarà in un pacco chiuso nero e dentro puoi trovare o la regular o la variant in mille copie o la ultra limited variant in sole 100 copie questo vuol dire che gli amici streamer che hanno tutte le variant o se la comprano la limited variant dai bagarini pagandola probabilmente 250 euro se gli va bene se non di più oppure gli tocca comprare decine e decine di numeri singoli fai conto che effettivamente se te la vendono a 250 euro puoi comprare oh un certo numero di questi si il povero Fenderfix andrà in biancarotta solo per questo e raga cioè il concetto è accettate il fatto che le variant sono una cacata e le dovete comprare solo se le volete davvero e in questo caso non dovete dovete sbatterve nel cazzo cioè diventate adulti anche voi e rendetevi conto che il collezionismo non è questo poi per carità volete avere la collezione fondamentale perché volete il pezzo raro questa è la vostra occasione è bello perché saranno davvero rari tra l'altro se tu hai davvero la copia ultralimited è effettivamente rara perché sono solo 100 copie possibilità di beccarla bassissima il collezionismo è quello dietro di te eh ma no ma il concetto è ecco per carità ci sta eh però mica se trovo l'ultralimited la vendo di brutto ma non me ne frega proprio un cazzo vabbè io il primo numero lo compro comunque per cui non è che lo compro apposta però però fa super ridere sta cosa perché io immagino nel nell'ambiente manga saranno tutti incazzatissimi ma proprio non è possibile io voglio la mia variant devo averla per favore ma il concetto è proprio quello se non era cioè se tu puoi averla facilmente ed è così semplice averla non è una variant per cui vale ha senso averla di base oddio si ti prego andiamo a leggere i commenti su instagram no da qua non riuscirò mai a farlo che palle faccio così planet instagram ovviamente non mi ha trovato planet manga che palle eh ma non c'è non c'è il coso dove lo cerco sotto sotto cosa scusatemi non c'è la notizia a parte che oggi non mi apre se clicco sui post non me li apre per qualche motivo eh ma purtroppo non c'è ancora la notizia quindi non lo sanno quelli che leggono che usano solo instagram sulla pagina di planet ma non ci sono i commenti sulla pagina di planet vaga mica ci sono i commenti generali eh su facebook semmai sì vabbè non voglio andare su facebook su quarto post di planet ah è vero che mettono sempre le cose in che palle che mettono le robe in evidenza per cui tu non ti accorgi perché c'è le uscite no non è sulle uscite della settimana l'hanno messo ma no raga no a sto punto mandatemi un link in privato se avete questo link fondamentale però sembra che mi fate un po' un po' vediamo com'è la si è messa a 47 anni si potrebbe essere interessante hanno fatto il post con i disegni dove spiegano le meccaniche ma dove non c'è su instagram non c'è il post con i disegni cioè questi qui con i disegnini ma no non credo ma sei shy ah eccolo l'ho visto ma non è qua ah il qua ok non so ma prima non era qua vabbè l'ho trovato l'ho trovato ok perfetto aspettate che lo apro di qua vabbè si 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 l'ho trovato l'ho trovato ma prima non me lo si vede che non si era aggiornato non lo so comunque sì non me ne frega non consenti token essenziale bravo siete riusciti a trasformare la cultura giapponese in delle figurine ma non mi riferisco a voi di panini che furbamente cercate di sfruttare la richiesta bensì a coloro i quali comprano solo perché c'è scritto varian senza poi neanche leggere l'opera la vostra collezione che tanto ostentate vale zero perle ai porci ok ma no voglio vedere le cose che palle ma perché devi rompere i coglioni stupido aspettate facciamo una cosa intelligente che noia allora facciamo così ve lo faccio vedere da qua così facciamo prima ok va bene c'è anche cosa gli dice ma perché non lo vedo perché non vedo l'altro fumetto di qui ah no perché sono sulla cosa sbagliata ok raga se l'iniziativa non vi piace cosa con la quale Google Ray la trova abbastanza imbarazzante se ne va poco criticare serve molto più non comprarlo ecco esatto e vediamo le risposte ho un intelligeno non c'è uno che gli dice ma io voglio senza lavare la mia collezione è incompleta il problema è che tre serie streamer di spacchettamento giochi d'azzardo queste copie andranno sicuramente a ruba sì certo il problema è che chi interessa davvero il manga cioè rendetevi conto secondo Doc Wine tutta la tiratura sarà comprata fra streamer e reseller ma guardate che è positivissimo se i reseller comprano tutte le copie e nessun altro la compra perché vuol dire che i reseller si fanno un culo così e non ci rientrano mai più e sono già delusa imbarazzante voleranno madonne ok un altro mese di ristampe di Seraph of the End non fatte così a caso finalmente qualcuno che voce viene adattato male Seraph of the End ok assolutamente d'accordo questo si è incazzato per altre cose idea ridicola come poche cose al mondo già con la crisi della carta ci sono pochi fumetti oddio pochi fumetti io non direi e ristampe non sprecatene tanta per fare queste iniziative al limite del paradossale Paninata è diventato mainstream comunque Paninata è un mio trademark ve lo faccio notare però ok magari Lollo mi sembra davvero una pessima idea è anche di cattivo gusto visto che sembra vogliate far diventare un gioco d'azzardo anche un semplice acquisto di manga i manga sono le nuove figurine Panini diciamo che Out33 ora sembra pure carina mi confronto alle regular che ci ritroveremo a sbustare ok su ebay vedremo la variant a 100 euro e la ultra variant a 300 no allora se la vendi a 100 la variant dovresti vendere la ultra variant almeno a 1000 perché il concetto è quelle ce ne sono 1000 di quella ce ne sono 100 è letteralmente 10 volte più rara deve costare 10 volte di più la paura però no aspetta la paura però è che possano fare anche con opere del calibro di Jutsu Kaisen o l'attacco dei giganti di nuovo cioè non gli basta l'edizione che c'è già devo farne un'altra infatti glielo fa notare cioè l'attacco dei giganti è finito Jutsu lo possono ancora spremere ma vabbè la Steelbox Out si parla di 100 no vabbè non credo abbiano fatto 100.000 copie della Steelbox Out mi sembrano un po' tante 100.000 se fossero 100.000 copie sarebbero veramente ma ho i miei dubbi le 100.000 persone che le hanno comprate no 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 non si vede bene la parte che sto leggendo no che peccato aspetta vabbè in realtà si vedeva scusate se lo è stato fatto con Jutsu avrebbero scattato lire collettive gravi quanti nomi di un fumetto vengono stampate solitamente dipende Octosus però sinceramente per una roba di questo tipo che vale che costa 19 ore 90 100.000 copie mi sembrano un po' tante anche perché è venduta solo sul sito cioè non è neanche distribuita fuori dal sito 100.000 sono tante vuol dire che 100.000 persone sono andate sul sito a comprarla o 50.000 ne potevi comprare due ma sono tante non sono mi dà più un'idea di una roba mille copie 2.000 copie 3.000 copie 5.000 copie 100.000 è una cifra improbabile ma proprio per tempi come fai? sì saranno 2.000 3.000 una roba così ma fai anche 5.000 10.000 no 10.000 sono tante 100.000 è ridicolo per una roba che non viene distribuita da nessuna parte se non sul sito ma gli si blocca il sito per 3 giorni per vendere 100.000 copie per fare 100.000 spedizioni tra l'altro singole perché sono due cioè al massimo ne potevi ordinare due 50.000 spedizioni singole minchia poco probabile non accadrà serie mediocre vabbè e Willy Wonka può accompagnare solo vero vero questa è una citazione colta volevate le ristampe che vi servono no beccatevi sta pagliacciata ma perché questa cioè vabbè no è questo il listing a sfufu raga va bene che ritrovarsi con 15 volumi regola dello scaffale non è male avete conciancellato il mio commento bravi la gente ormai compra solo le varie anzi sta perdendo il tuo vero scopo leggerci leggere no ma questa roba delle car cioè allora raga ma anche fosse sono 1100 in più cioè non è che sono 60.000 copie in più puc cioè loro preferivano probabilmente che arrivasse una copia a fumetteria della ultra variant perché il concetto era quello allora si poteva fare un'altra cosa e sono d'accordo potevi fare 1100 copie variant chiuse e 100 erano l'ultra variant potevi mettere due e non spedire non fare tutto insieme però il concetto è se tu fai la ultra limited sono comunque solo 100 per cui ne devi trovare tipo una fumetteria in tutta Italia è chiaro che non funziona allora io ti commento siete dei clown grande ma io secondo me hanno fatto benissimo secondo me è un'idea geniale perché se la gente è boccalona e ci casca ma poi tra l'altro la gente nemmeno lo vuole questo manga non gliene frega un cazzo è che devono avere la variant Japan Chad ci dice solo a me brucia già il di dietro gli risponderei sì perché sei stupido però vado a vedere il coso di Japan Chad si vede che è uno avanti lui anche fumetti allo zenzero si è incazzata e visti gli insulti che stanno arrivando tac è che un fantastico carosello esplicativo ah ma aspettate aspettate non abbiamo guardato come funziona abbiamo guardato tre edizioni per il primo numero come i tradisconi no vabbè grazie le mille copie le cento vengono tutte imbustate allo stesso modo beh si era capito le une dalle altre per colore forma odore peso struttura molecolare tutte le buste ormai dal contenuto indistinguibile agli occhi umani mi piace questa cosa le buste le posizioni sono una o l'altra edizione sono identiche su tutti i canali di distribuzione una volta acquistato e in vostro possesso non prima volete aprire la busta e scoprire se siete stati molto fortunati discretamente fortunati oppure fortunati in amore no è troppo una perculata è bellissima ah che bello nella nome bellississima infatti è divertentissimo c'è tipo qua ci sono quelli che vogliono andare con la bilancia ma io per me hanno fatto benissimo eh ma Lorenzo Scafuto io allora con tutto l'amore per Fenderfix se lui vuole collezionare tutte le variante è un problema suo cioè è lui che ha deciso di farsi fumetti allora se Fenderfix una mattina si è svegliato e ha detto cosa posso fare della mia collezione di fumetti sì penso che mi metterò a 90 e mi farò sodomizzare dalle case editrici perché collezionare tutte le variant è questo è farsi sodomizzare dalle case editrici e dirgli ehi guardate questo è il mio tenero buchino ora fate quello che volete io sono qua qualsiasi cosa voi facciate io la accetto e la compro nel mio di dietro letteralmente questo perché perché sei tu a dover decidere cosa va nella tua collezione non è la casa editrice se tu per principio la tua collezione è compro tutte le variant è so cazzi tuoi con tutto l'amore per Fenderfix per cui non ho niente di contro a parte quando bruciava i fumetti ma non lo fa più sì il concetto è che devi avere una gran botta di culo perché raga 100 in tutto il territorio nazionale è difficile compreso il sito Panini compreso tutti i rivenditori esterni non so chi sia il resto è manga ma cosa dice? basterebbe non comprarlo sotto fumettaggio visto che anche il marketing è vergognoso che ci sta dietro però volete ogni manga perché abbia le varianti giustamente rosicate sì ma è questo il punto cioè non ti va bene non lo compri o ne compri uno ma mi spiegate sta cosa per cui Caverna adesso nei titoli ha sempre slot machine perché vanno le slot adesso non c'è più prima c'era ciao Pavilion magari ne prenderà un botto di corpi eh comunque torniamo a noi allora aspettate che devo ricambiare la finestra eh ok tra l'altro potevo aprirla anche di là però vabbè ok sì non so che non sembra cambiata ma è cambiata torniamo ai manga bello comunque ve lo consiglio molto Alice che era per quello ok ci sta poi abbiamo le short stories di Boichi short stories 1 timeless voyager figo questo mi sa che lo piglio perché comunque Boichi è figo un po' caruccio perché 219,990 con solo la coperta però caruccio poi Boichi short 2 990 anche questo neanche un cuffanettino eh 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 dovresti mettere 8 tube nel titolo sì dovrei poi metto tipo un tubo caldo dietro di me no più che altro fa strano che non ci sia un cuffanetto di sta cosa potevano farcelo tranquillamente poi abbiamo moglie di una spia di Ryoichi Yamaguchi Kyoishi Kurosawa Tadashi Nohara e Masasumi Kanekizaki in mille l'hanno fatto sto fumetto non ne so nulla contiene c'è anche il cuffanetto da 14 euro singoli costano 7 boh non ne so assolutamente niente vabbè l'autore di Green Blood e Bestiarius boh non lo so ah dal film di Kiyoshiko Kurosawa oh dubito che lo comprerò no ma è di questo sì ma no ma mi fa strano che non abbiano fatto il cuffanetto con le storie di di Boichi potevano farlo c'erano due short stories proprio come lo fanno di sto qua potevano farlo anche di quello poi abbiamo Other Side Picnic anche questo mi sembra una roba bellissima due ragazze si incontrano in un luogo oltre il nostro immaginario in una dimensione in cui i mostri sono realtà e non solo un incubo leggende metropolitane stane creature prendono vita oltre quella soglia ma Sorauo e Torico non hanno paura di affrontarle visto così mi sembra orripilante però sembra molto poco interessante così a prima vista tra l'altro con le pistole le affrontano 280 pagine a 750 mi sa di sbagliato però vediamo poi abbiamo Blue Sky Complex di cui mi chiedo quale sia il tema così a vista però quello che si può dire così a prima vista è che i disegni fanno cacare che merda bello però devo dire sembra proprio bellissimo però si uniscono le cover volendo no non è vero è solo così a caso che merda due ragazzi si trovano immersi senza una biblioteca si innamorano anche in pack con il quartellino in omaggio ma non sono le mani che mi danno fastidio mi dà fastidio la spalla di lui cioè questo sembra un armadio con un braccino che fuoriesce a caso visivamente è proprio brutto e soprattutto cos'è questo pezzo scusate è un pezzo della manica tipo però è proprio strano cioè il braccio buh sembra Gianni Morani è la propria prospettiva prospettiva si uniscono si uniscono i protagonisti sì quello sì e a proposito di protagonisti che si uniscono ecco a voi Hello Morningstar 1 non avrei voluto accorgere ma sono ancora innamorato di te Atsuto è il frontman dei J Planet manga Yuki è il carismatico vocalist dei Real tutti li credono rivali ma prima del loro esordio stavano insieme quando Atsuko debuttò i due decisero di lasciarsi ma i sentimenti si saranno sopiti spoiler no ma cos'è il mese il mese boys love per Panini questo Pink e Man Meshiba 1 contiene Hello Morningstar 1 puoi averli insieme perché sì perché è dello stesso autore sì quindi e sono entrambe perché iniziare perché iniziare due serie boys love contemporaneamente dello stesso autore lo sa solo Panini però ok Ken Meshiba è un insegnante ossessionato da un idol un giorno lo studente lo viene a sapere e inizia a minacciarlo obbligandolo a comportarsi come se fosse il suo cagnolino cioè questo sarebbe il professore beh sembra molto il professore questo devo dire si hanno fatto un bando per tutti tranne che per Boichi sì beh anche questo sembra super interessante poi vabbè arriva l'Evangelion Collector Edition 2 sempre che esca l'uno già oh già allora cazzo qualcosa di questo non ce l'ho di premiamo un po' miura allora qualcosa di questa roba non ce l'ho non c'è il cofanetto ma perché non fanno i cofanetti delle uniche cose che avrebbe senso farle tipo fai uscire questi tre sono lo stesso formato sì ma fai il cofanetto allora cofanetti solo per roba di materiale omosessuale se neanche solo per boys love se non sono boys love non gli facciamo il cofanetto e io allora alcune allora almeno già pen ce l'ho di sicuro però effettivamente ce l'ho in un'edizione vecchissima di merda a 7 euro potrei anche ricomprarmelo in effetti il re lupo e la legione del re lupo secondo me uno delle due ce l'ho però mi sa che le compro comunque tanto sono fighi 7 euro a volume ci sta ma sì sono volumetti sono 200 pagine e coso vende poi il formato è quello classico vabbè insomma è l'anno scorsa settimana mese scorso cioè due mesi fa ormai su anteprima questo li piglio mi sa che li piglio tutti e tre anche se penso di averne un paio non mi ricordo dove l'hanno pubblicato perché già pen era su manga forse il re lupo ce l'ho già ce l'ho addirittura già in volume quindi non lo ricordo già in volumetto non mi ricordo devo guardare però e poi love emotion theory 2 citrus plus 4 che è sfacciato 4 stice il samurai questo ho visto oggi in fumetteria ma non l'ho preso ciao volta clienti sauditi e cileni star wars ribels 3 ho preso il primo ma ho mollato lì soft metal vampire 4 ok assassin's creed ok one punch man vabbè solita variant solita air shield 21 ok under the luck ok spy family 9 ok blu lock 4 figo blu lock mi sta piacendo sempre di più death death oh l'ultimo numero di death death demons destruction anche questo sono un po' indietro in quanto che finisce ve lo dire leggermeli poi c'è vabbè il solito numero di 20 century boys shy metal alchemist due numeri così a caso uno a settembre e uno a ottobre un marzo da leoni 16 bel po' che non usciva kengan ashura che continua a uscire muriorti dei patriot blu conosuba me vabbè jobless reincarnation continua a arrivare flander star of the end tanken grande tanken capolavoro compratelo tutti red eyes e in più oh vabbè sì grazie lo sappiamo che sono disponibili le state ristampando dall'autore di noi in un manga che non è nostro vabbè praticamente di novità c'è poco niente di interessante sono solo solo robe vabbè no dai i primi due sono novità in effetti c'è una marea di boys love e queste robe di miura fico prenderai la prova nuova edizione di sensei e il primo numero sicuramente sì volta perché voglio comunque la versione la versione variant perché amo i cavalieri amo calcare per cui la piglio poi non lo so devo vedere com'è l'edizione così su due piedi direi di no però chi lo sa ma passiamo a DC evviva va guardate chi c'è c'è Batman Killing Time 1 non so cosa sia Tom King ancora Tom King era un po' che non scriveva cose una nuova miniserie che non comprerò in spillato grande ma Beppo il problema è che la bolla di reseller non è che l'alimenta panini l'alimenta chi compra dai reseller loro giustamente devono guadagnare e quello fan Tony Stark ha fatto anche cose buone cioè il concetto è basta starci attenti e non spendere troppo per stampare mille e mila cose sì sì questo è Batman è panini Batman Ni Umberto quando fai certi effetti di marketing sei tu che alimenti la bolla e ho capito però il concetto è che se tu compri dai reseller qualsiasi cosa funziona così non dovrebbero più fare variant e la gente le variant le vuole il concetto è non comprare dai reseller esatto Alessigno è una mossa di marketing se la gente è stupida fanno bene cioè se la gente è così cretina che si compra effettivamente 5-6 copie di un manga che non avrebbe nemmeno letto per avere la variant ma ben venga cazzi loro cioè è normale che la casa editrice minchia ma lo farei anch'io poi speriamo non abbiamo un gran tanto non ha un boh considera che se non ci fossero le variant non è che quei lettori lì comprerebbero altri manga non li comprerebbero quindi è un po' così per favore potresti dirmi cosa mk cosa mk sono perso niente ho finito i manga adesso beh sì dovevo inizio manca solo marvel e panini per cui abbiamo finito i manga passiamo di sì in realtà l'abbiamo visto prima e e e no è quello cioè se panini gli fa bene sono solo soldi e poi se crolla il mercato perché nessuno compra più le variant però crolla lo stesso temo comunque un'altra nuova fantastica miniserie di batman scritta da tom king che non comprerò perché non ha senso pubblicarla in spillatino per cui se la tengono batman 55 speciale 64 pagine sì fa esistono sì ora non tutti sono a livello fenderfix che compra tutte le variant però ce n'è di gente cioè ma è la stessa cosa di chi si compra io non voglio dire ma è la stessa cosa di chi si compra 3-4 versioni dello stesso fumetto non è ritornato ad apprezzare gli spillati non per le miniserie volta una miniserie non in continuity che tanto non ha senso che non ha senso leggere mese per mese perché tanto non cambia un cazzo pubblicarla in spillato in italia è una presa per il culo è voler mungere il cliente e io non mi faccio mungere e quindi se la tengono quando uscirà in volume la comprerò in volume la pago 5 euro in più sti cazzi almeno è bello poi lo spillato di batman lo compro ma perché questo è effettivamente fenderfix è un è un creator ma non ho niente contro di lui a parte trovo assurda la sua idea però neanche da patriota eh what non ho capito patriota non approva non ho capito un cazzo perché patriota mi sono perso questa battuta non ho visto gli ultimi due episodi di the boys devo ancora vederli comunque escono batman 55 56 con mariko tamaki e la nuova serie di joshua williamson che inizia sul 53 credo che beve il latte dalla mucca e non lo so ma dite di farmi spoiler su cose che non ho visto santo dio joker 11 continuo il nostro viaggio dal passato della famiglia vabbè joker 11 justice league 28 poi justice league versus legione dei supereroi 1 un nuovo vabbè sarei sempre il solito di si crossover vabbè questo ci sta che scano così poi abbiamo superman 40 wonder woman 31 flash 29 lanterna verde 29 la justice league di morison 2 superman di john bairn 21 basta si ma non ho visto gli ultimi episodi di cosa palle basta avete fatto le palle o quantomeno quando siete indietro nella live non vale la jsa di morison si ma è legale questo caldo no infatti ho l'aria condizionata accesa allora dark knight of steel non lo sto comprando batman il cavaliere volume 1 genesi minchia vabbè 21 euro 160 pagine vabbè questo ci sta sdavski con con gian domenico io lo direi che lo piglio e vabbè lo sappiamo poi assolutamente consigliato è una storia nuova è del 2022 come puoi vedere si vede si vede vabbè vabbè si vede scusa quanti ministeri escono su batman mille perché vendono però questo è sdavski per cui ci sta un volume perfetto per chi ha amato il film di batman e desidera avvicinarsi per la prima volta all'universo del pipistrello ovviamente è fondamentale se avete visto se avete amato il film dovete comprarlo poi vabbè questa è una gran bella storia da comprare il cacciatore dell'arco lungo io ce l'ho in volumettino sicuramente non l'ho pagato 21 euro però vabbè ci attacchiamo al cazzo che ci volete fa Mike Grell figo da avere Black Adam i file della Justice Society non so cosa sia è un volume cartonato di 208 pagine a 26 euro che contiene Black Adam The Justice Society Files Hawkman Cyclone Atom Smasher e Doctor Fate volume fondamentale per conoscere meglio i protagonisti del film evento del prossimo autunno scusate ma questa cosa qua che senso ha cioè nel senso è una roba collegata al film sì decisamente c'è The Rock ma no è Black Adam non lo riconosci? sarebbe da capire se è davvero fatto per il film allora vediamo cosa dice il sito ufficiale della DC Comics capisce Tony Stark ha fatto anche cose buone è una cagata pazzesca ma Rockstar è madonna Wolfa però e grazie Pacchim92 per il follow no ma non è oddio è vero Hawkman è nero qua che palle oh mistero non si capisce se è in continuity o meno con l'universo DC o se è una roba collegata esattamente al film per andare sul sicuro non lo compro poi anche perché 28 euro 26 euro per una roba di cui non me ne frega un cazzo anche no poi abbiamo One Squad One Star Squadron super offerte di Mark Russell Steve Lieber e Dave Stewart serie anche questa del 2022 152 pagine 20 euro la prima squadra di supereroi in cui l'eroismo incontra il capitalismo un po' voglio leggere la serie sincera però non lo so piena di risate e con tanto cuore vabbè è una roba molto carina eh non lo so poi abbiamo Lanterna Verde Terra 1 volume 1 non l'ho mai letta Terra Terra cioè Lanterna Verde Terra 1 per cui magari il primo volume lo compro vediamo di Corinna Becco e Gabriel Hartman vediamo poi c'è Batman i nemici speciale ottantesimo anniversario bella cover devo dire di Federici credo ed è esattamente Gotham City Villains mi piace perché titolo originale Gotham City Villains Adversari Giant titolo italiano Batman i nemici vaffanculo vabbè questo è il solito volume 112 pagine 20 euro formato deluxe che è anche carina come cosa però insomma wow no l'ho vista oggi l'edizione nuova di Beck fa un po' cagare perché non è non è nemmeno la sovracoperta però Beck è un bel manga se non l'avete mai letto io il primo numero lo proverei sei volta provalo vedi se ti piace poi abbiamo Batman volume 1 progetti oscuri che è la raccolta delle storie di Tynion IV vabbè ci sta se non comprate lo spillato e volete recuperarvele questo è l'occasione orinna peco cioè o peco orinna dov'è orinna peco eh non ho capito Dario è una battuta a caso no poi abbiamo Robbins il segreto del primo ragazzo meraviglia che contiene la serie Robbins del 2021 e Team Sealy e Baldon Rivers brossurato 144 pagine 15 euro vedete com'è più comodo minchia 216 pagine 27 euro è tantino ma è un po' tanto 27 euro per 216 no? scusate eh però 280 beh sì 208 26 sì siamo nello standard è quello 160 21 per cui vabbè 216 non sono poche è sempre meglio di 112 a 18 se consideri cioè ribadisco se consideri che 112 pagine lo paghi 18 euro e rifletti che 216 a 127 non è poi così male comunque che belli i prezzi nuovi l'autore ha detto che si chiama Pecco Orin e non mi ricordo più qual è che padre dove era Corinna Becco quante ore fa avrei detto Pecco Orin vabbè comunque poi abbiamo Suicide Squad presenta King Shark qualcuno chiedeva King Shark di recente non mi ricordo dove arriva e viva se lo volete leggere eccolo qua è anche brossurato quindi lo paghiamo anche 15 euro a 144 pagine grazie panini vedete perché comunque con DC è un po' più conveniente spesso perché ci sono queste robe qua poi abbiamo il terzo volume della Suicide Squad del 2022 2021 robe varie Flash 680 più Teen Titans Academy è quello di Suicide beh sì il personaggio è quello però è la versione DC Comics vera vabbè qui c'è il terzo volume della Suicide Squad la guerra per la terra la guerra per terra 3 che cazzo ci fanno su terra 3 vabbè tipo crossover fatti in Titan Flash e Task Force X collidono su terra 3 ok uno degli eventi più importanti dell'anno ci dice panini 216 pagine 27 euro evviva poi arriva il secondo volume di Action Comics di Brian Bendis 176 pagine 23 euro così proprio 23 euro perché nel film hanno cambiato completamente lo squalo eh in che senso no raga perché è la versione a fumetti cioè non sono identici mai i personaggi adesso non mi ricordo non sono così esperto di Killer Shark però oh però non è il Killer Shark del film è il Killer Shark dei fumetti quindi non è idea la storia non è identica probabilmente non c'è l'amica bambina oh non so poi abbiamo il secondo volume di Swan Think di Ran V e Mike Perkins 152 pagine 20 euro Milestone Return vabbè non è che risparmi comunque rispetto agli spillati dipende a volte risparmi ancora soprattutto quelli da 3 euro Milestone Return Hardware stagione 1 è già uscita sta roba dall'1 al 61 beh mi sembra molto probabile ah no è un altro fumetto dell'universo Milestone ok questo è Hardware stagione 1 non ne so nulla non la compro esce Nubia e le amazzono i paradiso perduto vedete quanti brossolati però che fanno perché su DC ci provano almeno così perché sta roba qua chi cazzo se la paga 17 27 cioè questo qua costerebbe probabilmente 20 18 19 euro 20 a 15 magari lo compri a questa cifra qua no vita non lo compro neanche a 15 euro però magari non lo dice dai poi Supergirl di Peter David volume 2 segrete e bugie 312 pagine 33 euro vabbè questo è abbastanza standard questo lo comprerò probabilmente perché ho preso il primo magari aspetto un attimo ma lo compro il terzo flash di Mark Waid in Omnibus doppio disastro 104 euro per 1376 pagine beh ci sta Marshall Law Marshall Law non l'ho mai letto è un Omnibus no è un DC Black Label vabbè formato Omnibus praticamente beh questo è conveniente 480 pagine 45 euro questo lo leggerai volentieri se devo essere sincera perché è una roba particolare che non ho mai letto 104 è un botto vabbè per 1376 pagine è abbastanza nella media non è così tanto sì non l'ho ancora letto il primo di Supergirl l'ho preso e l'ho messo lì perché voglio leggerlo però non cambia e wow però non c'è scritto quando arriva questo in teoria a gennaio 2023 dovrebbe arrivare il secondo Absolute Decidive di Gaiman 88 euro però questo l'hanno lasciato 88 no faranno uno ogni 6 mesi secondo me alla fine ah eccolo qua il famoso Sandman Mystery Theater ah ecco che spoilerà che oggi mi dice delle robe di Sandman io non l'ho mai letto il Mystery Theater ma vavrà la pena 165 euro 8 volumi boh valicchia Matt Wagner in effetti Guy Davis ecco questa è proprio la solita stronzata panini questa roba qua se uscisse mensile io l'avrei comprati sicuramente così a 165 no non lo so boh è una delle robe più deboli vertigo dell'epoca quindi no che mi dice valicchia allora e vabbè queste sono le riproposte è il Sandman completo e ma che casino c'è ah no è giusto ah ma erano un sacco di volumi è vero il cofanetto completo erano 13 volumi più 1 14 e poi c'è questo qua di nuovo disponibile in teoria vabbè queste qui sono le solite cose sempre disponibili poi abbiamo Sweet Tooth 6 assolutamente da prendere è l'ultimo vero? sì questo spero l'abbiate letto perché è una secondo me una delle serie migliori di Lemire in assoluto poi Fables 9 stessa cosa Nice House on the Lake volume 2 porte chiuse boh Pricerotto ci sta e a questo punto vediamo Marvel che così chiudiamo col bottolo il bottolo viva Marvel allora legge del cinema alla fine ho deciso di prendere le lax americane che sono 5 scendono da 35 euro in tanto in tanto anche se le copertine sono davvero bruttine vabbè ci sta io se dovessi ricomprarlo oggi mi comprerei gli absolute vaffanculo ho questi mi tengo questi qua vedono Marvel allora vabbè a parte il solid ma mi spiegate cos'è che dovevo vedere che doveva farmi incazzare che non l'ho capito eh Sandman in inglese è vero a certa parte probabilmente è anche un po' tostino comunque vabbè Fortnite quarto non vediamo tutti l'ora dico solo un numero 73 poi abbiamo vabbè aspettate ah escono insieme no questo esce il primo settembre e questo il 29 vabbè Amazon Spider-Man 2 beh è bella questa cover di Romita complimenti Romita ecco su qua siamo d'accordo che fa un po' cacare questa immagine qui è proprio brutta per una volta devi vi do ragione qua no questa mi piace però questa è proprio bruttina vabbè comunque numero 2 e 3 poi Capitano America 2 vabbè lo sapevamo arrivano ma in che modo strano lo pubblicano cioè in questo numero c'è Symbol of Truth 1 vabbè perché sono non più lunghe le storie probabilmente boh ma in realtà a me piace a me che lui non piace più ma in realtà a me piace a me che lui non piace più ah questa dici questa cover no io trovo bruttina le proporzioni della faccia rispetto al corpo sembra che abbia un testone lei è bellina cioè questa parte qua mi piace è lui che non mi piace ha le gambine sottili sottili e il corpo tozzo e la testa stranamente taurina su un collo stranamente taurino è strano mi fa un effetto bizzarro poi vabbè arriva il secondo numero di Capitano America con Sam poi Thor 26 c'è Hulk Thor beh non è affatto spoiler devo dire questa questa immagine eh sì la pioggia a Romita piace poi c'è Hulk 8 in cui c'è il vestito di guerra ah ma è su ah sono 5 numeri non c'è un Omega ok pensavo di sì e poi qui qui sai già che gli ha ripreso il potere Hulk direi poi Avengers 47 vabbè chi se ne frega Iron Man 22 ok e Octosus porca allora ma ogni tanto mi fate queste domande in cui non so come pensate che possa rispondervi non lo so non lo avendo la letta non lo so di base no ovviamente cioè il concetto è sempre quello non hai bisogno di leggere il materiale precedente però è ovvio che se lo hai letto sicuramente sei un attimino più inserito poi di base sarà abbastanza autoconclusiva immagino sicuramente non saprai come Thor finisce lì e come Hulk finisce lì dovunque siano perché quelle cose avverranno prima e comunque vabbè Iron Man 22 vabbè continua Christopher Cancelll Final Fantasy 4 continua Dan Slott che culo X-Men 12 X-Men di Duggan Immortal X-Men 3 da questo numero finalmente due numeri insieme di X-Men Immortal e X-Men Uphead e viva e viva e viva e Wolverine 24 Yuppididu Torna Wolverine X-Force 26 fa ridissimo che qui ci sia scritto X-Force 30 quando non c'è scritto da nessuna parte sull'albo cioè sull'albo non essendo una serie ormai da edicola e non essendolo mai stata non c'è neanche scritta la seconda numerazione perché non ha senso però vabbè cose mie da maniaco devo leggere Primas per me ha poco senso ma oddio ci sta a volte però oh poi su Venomotto spoiler entra in gioco Kang grazie volevo saperlo Miles Monales 22 si toglie il vestito di merda? no eh potresti non sarebbe male se buttassi via questa giacca di merda tipo anche queste scarpe di merda però sto leggendo un fumetto nel filmato c'è She-Walk ma perché? Fiffo immagino che nel fumetto te lo spieghino o hai comprato un fumetto a caso comunque per un certo periodo She-Walk era nel 2004 non mi ricordo perché la cosa era in vacanza però era in vacanza dipende da che periodo era non c'è sempre stata Fratello Ultra è sempre stata ha sempre orbitato però c'era proprio un periodo in cui era nel gruppo ma penso fossero i tempi di Bayern forse non mi ricordo sono passati sono passati vent'anni quantomeno a meno che non sia un qualche numero speciale strano la cosa è rimasta nel mondo di guerra ah già è vero è vero Punisher 4 l'integrale di Tor di Jason Aaron 4 vabbè l'integrale di Spider-Man vabbè l'integrale di X-Man vabbè il canto di Fenice Eco vabbè è il coso della Fenice di ah no è una roba nuova cos'è questa cosaccia Rebecca Rowan Horse e Luca Marsica Kyle Charles vabbè la ripagione di Avengers arriva un nuovo personaggio trasformato Maria Lopez diventa un nuovo forza Fenice che idea di merda deve imparare a utilizzare i suoi nuovi poteri ma lo scontro con gli X-Men può appare inevitabile sarà bellissimo ma non ha un cazzo di senso lo sappiamo vabbè è della saga di Jason vabbè direi meccaro a North allora già il fatto che all'interno ci sia un Marvel Voices Heritage a me fa paura però non è giusto a passare in live ringraziatemi quantomeno è un fumetto antiabilismo e antirazzismo e quindi sarà una merda perché gli americani quando fanno ste cose sono terribili per cui la vedo molto male però magari è un bellissimo fumetto io non lo compro comunque oh è brossurato non lo compro comunque però è brossurato vedi che stanno capendolo anche loro a un certo punto devi farli ne fai di farne di più se poi invece volete buttare i vostri soldi il fantastico Savage Spider-Man ragnatela di sangue secondo me sarà orripilante 18 euro 112 pagine Giochelli e Gerardo Sandoval è fondamentalmente il seguito di Non Stop Spider-Man beh secondo me la prima parte era brutta c'era bacia lo pigro che non c'era voglia di disegnare era inutilmente verboso non oso immaginare come sarà questo temo brutto non so se lo compro vediamo poi arriva Io sono Black Panther Anniversary Edition vabbè perché arriva il film a novembre quindi si porta avanti Marvel vs Black Panther Marvel Black Panther Shuri è la Black Panther del 2009 dall'1 al 12 viene pubblicata in Italia questa è inedita potrebbero pubblicare le storie belle però di di Black Panther invece di ste merde qua no? Tony Stark ha fatto anche cose buone grazie per il follow Nal Wayne tipo quelle Marvel Knight che non hanno mai pubblicato potrebbero pubblicare di Pantera Nera un bel volumone un bel omnibus non lo so perché hanno pubblicato solo le prime di quelle questa cosa qua invece cos'è? un'altra serie del 2010 2018 di Shuri vabbè questa quasi quasi potrei provarla è uno di quei volumi rimpiccioliti da 200 pagine a 9 euro si può fare anche un pensiero e poi c'è anche un Marvel Scholastic per voi young adult eh quello della Randy Priest non sarebbe male ma scusate Shuri è protagonista ma non l'avevano defenestrata lei l'attrice infatti non ne so nulla di Black Panther quindi l'hanno riammessa non è più odiata perché cos'è che era antivaccinista non lo so non mi ricordo evviva che bello me ne frega un cazzo un Amor il primo mutante ma perché un Amor il primo mutante ma perché pubblicano sta cosa mi sa che ce le ho le storie tra l'altro di questa non mi ricordo se le erano pubblicate tutte ma questo lo so Faffo però sembrava che la tizia la odiavano quindi buh si ma te l'abbiamo detto perché Faffo c'era c'è tutto un Amor ce l'ha da qualche parte no ma in teoria ce l'ho ma tra l'altro credo di avere anche una versione in inglese di sta cosa perché era collegata all'invasione dei vampiri come potete notare dai morsi vampirici sul colo di Amor comunque no basta Capitan Carter che personaggio di merda questo sono contento di non comprarlo tra l'altro ecco qua hanno sbagliato però che si dia una regolata perché non può essere un brossurato a 18 euro allora o è cartonato e non costa 18 cioè o è brossurato e non costa 18 o è cartonato e costa 18 personaggio Marvel con cui si potrebbe iniziare il personaggio che ti piace scegli un personaggio Marvel che ti piace e inizia quello non c'è un personaggio vanno bene tutti sì sì è più probabile è più probabile che sia cartonato i costi 18 però e poi abbiamo what if Miles Morales quanti Miles ci vogliono per che cazzo è questa cosa interessantissima ma che titolo è cioè in inglese è what if Miles Morales ok da noi è what if Miles Morales quanti Miles ci vogliono per ma che cazzo eh no no anche perché costano 14 sono qua guarda mi hanno visti prima no questo è brossurato c'è 36 pagine e costa 15 il titolo di merda un racconto un racconto di 5 storie potete criticare e se si fosse diventato Capitano America o Wolverine a che dire di Miles ne parla di Hulk e Thor e soprattutto se tutti questi Miles Morales si unissero per formare gli Avengers che merda i Miles Avengers no non credo che lo comprerò però magari è bellissimo vediamo e poi c'è Moon Knight volume 2 vabbè questo si compra anche solo per i disegni di cappuccio mi viene sempre cappuccino per una questione di formazione professionale e si compra Miles Morales va bene la riproposta delle storie riproposta sullo spillato stessa cosa degli Avengers stessa cosa di Hulk il più debole che c'è Marvel Miao bello questo deve essere mio cartonato 72 pagine 12 euro le storie di Chewie la gatta di Capitan Marvel mio bellissimo non vedo l'ora di leggerlo questo lo compro per farci i video gatti Marvel che è bello magari lo compro davvero ma arriva Cyberthoof Cyberthoof l'avversario Cyberthoof l'avversario oh io ancora non ho capito cos'è che era questo 72 che doveva incazzarmi perché costa 12 euro meno male che non ne costa 18 era questo se no 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 continuo a non capire comunque Cyberthoof l'avversario brosuratone 152 pagine 16 euro vai così Victor Laville Leonard Kirk Victor che è il signore degli inferi uno dei pochi in cui i disegni saranno peggio della storia minchia andiamo bene l'avversario è scritto dall'acclamato romanziere Victor Laval per i disegni del veterano Leonard Kirk bello 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 sarà mio poi abbiamo Marvel Giant Sides Edition Spider-Man l'ultima caccia di Kraven oh figo questo 73 cosa ci sono 36 pagine e seriamente fanno Marvel Giant Sides l'ultima caccia di Kraven però non lo compro mi sa me ne frega un cazzo se devo essere sincero perché finché fanno le mega saghe ci sto ma così non lo so non sono convinto vabbè ma sono è un absolute 500 pagine non è che sia così strano sono più o meno sempre quelli i prezzi quanta roba ci hanno messo dentro non lo so effettivamente cioè boh ci hanno messo un what if Amazing Spider-Man due numeri un what the c'è c'è Sword of the Hunter Sensational Spider-Man 96.1 non so cosa sia non lo so sinceramente non mi ispira molto in quel formato lì lo trovo un po' inutile sì infatti mi sa che questo qui lo lascio dove sta tanto ce l'ho già l'ultima caccia di Kraven ne faccio abbastanza meno tanto non c'hanno il numero per cui insomma e poi è una storia che ho già in volume per questo c'è anche sti cazzi mi va benissimo come ce l'ho vabbè maestro World War Hulk nuova versione del maestro cioè nuova miniserie del maestro di Peter David non è che mi abbia fatto impazzire però è carino ed è Peter David e gli voglio bene quindi si compra no Faffo non è vero è un po' sul prezzo ma perché li hanno alzati un po' di tutto ma in realtà se guardi gli altri più o meno i prezzi sono abbastanza in linea è comunque caruccio e siamo tutti d'accordo però infatti non lo compro se guardi quello di alla fine questo è uguale a quello di Sandman e quello di Sandman costa 88 perché ha un po' più pagine per cui siamo lì di Absolute costa così alla fine vabbè l'incredibile look di Peter David figo dovrebbero fare una nuova versione unica secondo me del look di Peter David sarebbe un sacco bello che si mette a solo fare un'edizione figa però eh ma infatti più o meno siamo lì ciao Alessio More che ne dici durante prima fino ad ora un sì o un no è un bo come sempre poi abbiamo Marvel Must Have la fortuna dei Parker qual era la fortuna dei Parker i primi sei numeri del 2014 di Dan Slott e Umberto Ramos qual era l'intenzione di sfruttare le sue occasioni non mi ricordo quale qual era non ne ho idea un run dopo superior ah ok ma non è quella è quella dove è ricco cioè quello con la macchina no è quella dopo ancora non mi ricordo dopo superior non mi ricordo ma è quella dove è ricco quella dove è il presidente Parker quella arriva dopo dopo ancora boh non mi ricordo proprio vabbè questa è cagosa però ecco questo è da comprare questo qua lo comprerei anch'io però no sinceramente aspetto che me lo faccia in una versione un po' più figa questo è da prendere perché è molto figo Avengers Forever di Busek Pacheco grandi disegni bello bello questa qua non serve a un cazzo sinceramente cioè se proprio ci tenete questo è bello io super super uh uh fico bello materiale classico e mezzo inedito credo di Clermont questo ci faccio un pensierone po' costoso perché 688 a 74 è tanto però eh poi vi lamentare nel senso questo qua costa quanto quello c'ha 100 pagine in più però questo qua mi stuzzica vabbè esce a gennaio c'è tempo però mi stuzzica eh due liga tennis non lo so spero di no perché è un po' pesantino ma questo esce a ottobre comunque eh quello l'uno quando esce non mi ricordo deve uscire ad agosto ogni tre mesi è comunque tanto però esce a settembre l'uno la vedo bene non sono molto vabbè magari poi non esce o escono insieme però questo mi stuzzica masterbox fantasy 4 ok re conan vabbè continua e basta abbiamo finito evviva eh questo qua il prezzo è un po' alto forse perché è di nicchia cioè questo qua costa 860 pagine 84 euro questo 680 74 non che ti cambi la vita se costava 68 eh però appena parcheggiato salgo caro dalla family buonasera ciao ma adesso chiudo anch'io a ottobre si diventa poveri sì vabbè questo esce a genna io fortunatamente il punitore ce l'ho nel vecchi volumetti mi tengo quelli non compro certo l'omnibus perché i soldi non mi escono dal culo ma mi spiegate cos'è la cosa che mi doveva scandalizzare che ancora non l'ho capita invasione di capre superstiziose vabbè vabbè ma grazie ai mod di shy grazie ai mod di shy vi voglio bene ciao anche ad alessandro se ci sta guardando Tony Stark ha fatto anche cose buone grazie i zucchi 87 vi voglio bene benvenuti non ci ho pensato in realtà non mi ricordavo neanche se era live oggi shy però fortunatamente questa live dura tanto e quindi yuppididoo grazie a tutti per essere qua Tony Stark ha fatto anche cose buone al cane magico supremo a morkelsea tra l'altro siete arrivati praticamente in chiusura di live ma possiamo tirarla qualche minuto in più se volete mi faccio rivedere i fumetti che ho preso non lo so Tony Stark ha fatto anche cose buone vi toglierei insetti gli insetti mi attaccano in realtà stavamo guardando prima bisogna per forza allungare sì non troppo perché tanto adesso la gente se ne andrà però grazie 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 per il ride vvb e come state dai vi faccio vedere un po' dei fumetti che ho preso oddio non è che sia tutta questa roba però facciamo contento Simone allora grande novità a fumetti un po' della della stagione il fumetto italiano rinasce grazie ad Astromica e con le divine commediche sono un po' incazzato per il tempismo di questo secondo omnibus e sì robert devil effettivamente è strano che l'abbiano fatto uscire così vicini però nuova misere di tom king su batman cosa ne pensi che non la compro in volume tex come ho detto prima aspetto che non la compro in spillato aspetto che esca il volume come sempre questo è un simpatico fumetto su dante virgilio in versione comica edito da rv edizioni e Astromica a 10.95 cartonato può essere interessante grazie per il follow il comandante cobra toa di garant morcalise e cane magico supremo che forse l'avevo già ringraziato ciao jason e siamo già scesi a 94 beh è stato rapido quindi posso anche chiuderla in realtà la live però è stato bello e se no c'è il fantastico animalati tanto tranquillo che escono in ritardo magari il primo è sceno rario speriamo perché se no diventa un po' tutto inutile poi è uscito l'ultimo conclusivo volume di jojoleon con le cartoline sono ben dieci postcard varie sempre i soliti pelati eh sì adesso stiamo risalendo a 110 vabbè joker 9 ministeria dedicata al joker in cui in realtà è tutta su il commissario gordon per qualche strambo motivo e poi il fondamentale crossover fra fornite e la marvel una roba e per concludere dylan dog albo bis perché uno non bastava che però fortunatamente ha dei disegni decenti in questo numero rispetto a quello precedente che era abbastanza imbarazzante e quando completiamo le sasi ok quello è il mio messaggio va bene a questo punto io direi che vi saluterei e vi farei un raidino così vado a mangiare pure io e da chi vi mando di bello da leda vi mando da leda ma si dai vi mando da leda fruttoletta no non lo so in realtà non c'ho niente di buono da mangiare penso oggi non ho neanche idea devo farmi le uova che sennò scadono e ad agosto ci sarà fornite x dragon ball dubito però comunque fate tutti un salutone a leda quando finite da lei e ci vediamo alla prossima live domenica alle 18 alle 21 e ci vediamo un po' di